Il vostro paese vive in una situazione di grave conflitto che si sta protraendo da vari mesi e continua a mietere numerose vittime innocenti e a causare grandi sofferenze all'intera popolazione. Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano i Vescovi ucraini e ha subito colto l'occasione per rivolgere un nuovo appello a tutte le parti interessate perché siano applicate le intese raggiunte di comune accordo e si è rispettato il principio della legalità internazionale. In particolare si è osservata la tregua recentemente sottoscritta e siano applicati tutti gli altri impegni che sono condizioni per evitare la ripresa delle ostilità. Ai presoli in visita ad Limine il pontefice ha chiesto di fare il possibile per superare le divisioni sanando le ferite del passato e tenendo sempre Gesù come stella polare. Rispetto alla situazione di iniqua povertà in una terra generosa che si è generata a causa di un malinteso senso di libertà economica Papa Bergoglio ha infine esortato i Vescovi ucraini a farsi sempre più difensori delle famiglie, dei poveri, dei disoccupati e dei deboli.